Se non saranno il pessimismo o l'ottimismo a farci superare questa pandemia, a permetterlo non sarà di certo il terrorismo. Forse una delle tante difese che abbiamo è quella che sta costantemente venendo a mancare. La lucidità. I vecchi media, televisione, radio e stampa, in questi mesi ci hanno abituato a titoli catastrofici. Basta litigare, basta confondere le persone, è il momento di informare e di fare una corretta comunicazione. È possibile che in questi mesi l'unica cosa che siete riusciti a dirci è stata indossate la mascherina? Ma quali mascherine? Ce ne sono tante, di diverso tipo. E mi chiedo se quei pochi che hanno tentato di dare una spiegazione ne abbiano mai indossata una in vita loro prima di questa pandemia. Addirittura i medici sono stati date delle mascherine sbagliate. Mi chiedo se chi ci dice di indossare un pezzo di stoffa abbia mai preso il 7-19 a Roma. È il momento di fare quello che fino ad ora non si fa, comunicare per informare. Non con l'ottimismo, non con il pessimismo, né tanto meno con il terrorismo.